I lavori sono andati avanti a oltranza per tutta la notte. Del resto sulla cosiddetta manovrina è stata presentata una pioggia di emendamenti. Oltre 250 in tutto il via libera alla manovra è arrivato soltanto a notte fonda. Clima tutt'altro che sereno dunque seduta carica di tensioni in commissione bilancio con Forza Italia che a metà ha preferito lasciare i lavori dopo la bocciatura di un emendamento che aveva presentato e che è stato bocciato da PD e 5 Stelle. A passare invece un altro emendamento per così dire salva PIP, la norma che fissa a 20.000 euro il tetto di reddito massimo previsto. Sarà infatti riferita da ora in poi al reddito individuale e non più familiare. In base a questo tetto nelle scorse settimane centinaia di precari erano stati espulsi dalle liste. La manovra da 136 milioni adesso è pronta per Sala d'Ercole ma è di fatto un provvedimento d'emergenza. Le somme dovranno servire a garantire trasferimenti ai comuni e gli stipendi di regionali e lavoratori di enti e partecipate. Il resto è ancora tutto da fare e se ne parlerà solo dopo le europee. La manovra vera e propria avverrà a giugno perché noi abbiamo dovuto riparare quest'anno un'attacca alla manovra incredibile che si è avuto dopo l'impugnativa del commissario dello Stato. È evidente che abbiamo dovuto riparare una condizione di emergenza però la situazione è perfettamente sotto controllo se tutti vogliono tutto. I contributi alle associazioni eccetera verranno dati in estate come si è fatto sempre. Oggi noi stiamo facendo un'operazione di dare immediatamente lo sblocco delle risorse facendo un'azione di solidarietà che ha come al centro i comuni che potranno pagare i loro stipendi, i regolamenti, i loro lavoratori. Bloccato intanto in commissione bilancio anche un altro emendamento molto discusso, quello sugli stipendi d'oro. La norma presentata dal presidente della commissione affari istituzionali Cracolici e che fissa 200 mila euro lordi annui onnicomprensivi, il tetto massimo per gli stipendi di dipendenti dell'assemblea della regione e degli enti controllati, non è stata nemmeno votata. Tardasera infatti in commissione è arrivata una nota del presidente Ardizione nella quale si dichiara inammissibile l'emendamento ma solo per i burocrati e pensionati dell'ARS. In base all'articolo 4 dello statuto speciale infatti il Parlamento regionale gode dell'autoregolamentazione, resterebbe però aperta la possibilità di inserire il tetto per i dipendenti della regione. Cracolici ha annunciato che ripresenterà l'emendamento in aula.